Amici 22, Pachi in lacrime per l'ultimo posto nella balla racconta il suo passato ad Alessandra Celentano. Si è appena concluso il Daitime di Amici 22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nell'appuntamento pomeridiano di oggi, 20 febbraio, Pachi Brunetti si è lasciato andare allo sconforto dovuto al risultato ottenuto nella ventunesima puntata di Amici. Andata in onda la scorsa domenica. Il ballerino napoletano, infatti, si è classificato ultimo nella gara di ballo, a poco tempo di distanza dall'inizio del serale. Arrivare primo, quinto, quinto, ultimo, è pesante. Ne ha ucciso, ha detto Pachi dopo la puntata sfongandosi con l'amico Alessio Cavaliere, aggiungendo. Il ballerino di Papa quindi ha avuto modo di confrontarli con la sua insegnante Alessandra Celentano, alla quale ha ripetuto. La maestra Celentano ha risposto al suo allievo. Pachi, scoppiato in lacrime, ha quindi confessato alla sua insegnante un dettaglio sulla sua situazione familiare. Conciò spiegando il motivo del suo malessere. Ti devi godere tutto quello che stai facendo indipendentemente da tutto, poi come andrà ha detto la maestra di ballo tu sai che stai facendo il massimo. Tuo papà ti conosce, sa chi sei. Hai capito delle cose, hai imparato delle cose. Fa parte di questo percorso. Amici non è facile ma è una grande crescita. Qualsiasi cosa, io sono qua. Grazie. 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 Grazie.